Ciao amici bentornati su Cesco Channel ed eccoci qua per affrontare i nuovi numeri 34, 35 e 36 dell'Oriente Express. Allora diamo subito uno sguardo ai nostri nuovi fascicoli quindi il numero 34 di che cosa parla? Si va avanti con il discorso del corso di modellismo quindi si continua con la saldatura delle lamelle sui carrelli per la famosa illuminazione della carrozza ristorante che avevamo cominciato la volta precedente avevamo cominciato a parlarne io l'avevo già affrontata come vi dicevo in un video qualche mese fa quindi qui ti spiegano esattamente come andare a saldare e posizionare le lamelle sui carrelli ok utilizzando ovviamente la colla cianoacrilica e ovviamente il saldatore ti spiegano come andare a tirare i tuoi cavi per andare poi a illuminare quella che è la barra di led e ti fanno praticamente una spiegazione molto accurata di come rimontare poi gli interni e far passare i vari cavi diciamo al di sotto di quello che è tutta la parte degli interni ok sotto ci sono vari posti dove andare a passare i cavi e trovano tranquillamente alloggiamento tutte le apparecchiature elettriche che voi volete inserire volendo si potrebbe anche mettere per diciamo per i più avanzati per i più appassionati un decoder in modo da illuminare la carrozza in modo indipendente rispetto al resto del plastico ma vabbè questo è un discorso che faremo magari più avanti quando si parlerà di digitale detto ciò si va come dire a parlare di quello che è il componente o i componenti che compongono questo numero qua si comincia a parlare dello sciaglia di montagna e degli interni del bagagliaio che per inciso il bagagliaio ha dei bellissimi interni ma difficilmente visibili perché non ha le porte apribili almeno da quello che ho visto io le porte sono fisse quindi quei bellissimi sacchi che ci sono e forse si riescono a intravedere un po dal dai finestrini ma solo se illuminiamo all'interno del bagagliaio quindi provvederemo a fare anche quel tipo di lavoro ci danno inoltre anche un contenitore un piccolo diciamo una scatoletta di plastica come la chiamano loro per andare a riporre i chiodini che ci hanno dato nei numeri precedenti vediamo il numero 35 ok qui si parla dell'affascinante storico diciamo baron hotel di Aleppo insomma un hotel molto famoso per l'epoca e di cui ebbe anche illustri ospiti come Lawrence Lawrence d'Arabia ci sono anche delle splendide foto storiche o delle foto odierne meglio meglio dire con gli interni mantenuti tali e quali come allora e inoltre c'è la terza puntata del diciamo dell'accendiamo le luci della carrozza ristorante quindi di questa rubrichetta che ci permette di andare a capire come utilizzare per esempio quello che è il condensatore per stabilizzare quella che è la luminosità dei led e ti spiegano bene come andare a diciamo utilizzare la barra led e saldarla e così via ok e infine testarla nella carrozza infatti ecco qua il risultato finale esattamente identico a quello ottenuto da me mesi fa bene ultimo numero di oggi qui si fa ci si rifà un po diciamo di modellismo livello pitturazione quindi si parlerà di rifare il trucco al portale sud esattamente come è già stato fatto per l'altro portale si parlerà di invecchiare il il portalone di come andare a stendere una sorta di patinatura il bianco per risaltare quelli che sono i mattoni e poi il nero per fare in modo che si veda la fuligine la polvere e così via con le varie tecniche già spiegate nella volta precedente e riviste anche qui in questa diciamo in questa fase molto molto interessante fatta veramente bene anche un neofita che non ha mai come dire pitturato non ha mai decorato niente può tranquillamente cavarsela ok inoltre questo è il risultato che ci si attende diciamo da questa da questa operazione veramente molto bello inoltre in questo ultimo numero di questo di questa puntata si parlerà ancora della dello chalet di montagna si monterà solamente una parte diciamo del del tetto ok quindi siamo pronti cominciamo il montaggio delle cose che abbiamo ricevuto ed eccoci qui con i componenti del numero 34 prima di montare la parte dello chalet voglio guardare con voi questo che appunto è l'interno del del bagagliaio quindi mi apro quella che è la confezione la estraggo per vedere esattamente che cosa c'è guardate allora è meraviglioso perché comunque ci sono tutta c'è tutta la riproduzione dei bagagli e ci sono tutti i bagagli diciamo disposti che poi con con la tecnica dell'apitolazione si può andare direttamente a decorarli e ci sono tutti questi sacchi che sono meravigliosi da vedere sarebbe stato bello diciamo avere come vi dicevo la la porta scorrevole per aprirla e poterli intravedere anche quando magari il treno è fermo e stazione e così via però non disperiamo ci sono le finestre le finestre sono trasparenti quindi con una buona illuminazione interna si può ottenere l'effetto desiderato comunque si potrebbe anche inserire qua dentro una figura magari diciamo quasi in corrispondenza con le finestre una figura di controllore diciamo capotreno roba del genere che verifica i bagagli qui ci sono degli alloggiamenti che credo siano per il personale e basta insomma c'è veramente un bel pezzo secondo me è fatto 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 bene che va semplicemente decorato meglio tutto lì e ci lascia appunto gestirlo a noi modellisti quindi gran pezzo mettiamolo da una parte per dopo o meglio per il futuro quindi vediamo che cosa abbiamo ricevuto abbiamo ricevuto la prima parte dello chalet quindi una facciata e abbiamo ricevuto anche la parte diciamo delle vetrate eccole qua che andremo a montare su quella facciata lì quindi estraiamo questa vetrata direttamente dal nostro la nostra plastica fate attenzione perché è incastrata molto bene eccola qua prendiamo questa plastica ce la osserviamo bene e vediamo esattamente che è decorata su questo lato mentre sull'altro risulta come al solito trasparente quindi da una parte è in rilievo dall'altra invece no ok quindi ci servirà che la parte in rilievo guardi al di fuori quindi verso l'esterno della casa quello che dovete fare non è altro che prendere la vostra facciata capovolgerla e anche questa capovolgerla con diciamo le parti in rilievo all'esterno come avete fatto fino ad oggi per la stazione dovete semplicemente come dire individuare i fori e i perni rispetto a quello che è appunto la facciata e il vetro ok molto semplici ci sono un sacco di perni e ci sono un sacco di fori andiamo semplicemente per pressione su tutto quanto ecco qua ed è fatto abbiamo montato la nostra facciata molto 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 bello ora l'altra parte invece altro numero vado a recuperare i pezzi subitissimo uno è la parte del tetto e l'altra è la copertura del tetto con le sue viti di tipo ap ok allora mettiamo da una parte questo pezzo andiamo un attimo verificare quest'altro pezzo dunque notate che questa parte qui ha un foro che sicuramente ci servirà per un camino e qui ci sono tre diciamo fuori per le viti qui invece ce ne sono solamente due se guardiamo il pezzo di copertura che ci hanno dato a il foro che sicuramente sarà quello per il cammino se lo capovolgiamo ci sono tre perni che sicuramente andranno inseriti in quei tre fori lì quindi molto semplicemente andiamo a far combaciare questi perni con questi fori e fissiamo con le viti capovolgendo di tipo ap notate come è particolareggiato questo sottotetto con tanto di travia vista e con tutti questi queste decorazioni questi diciamo montanti molto 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 belli allora prendiamo le vitine di tipo ap io ne ho avanzate due dalle scorse puntate avanzate più di due vero però comode comode o questi e ne vado a prendere una terza nella nuova confezione che mi hanno dato ancora qui vado a pesca con il mio cacciavite magnetico e si fa prima ecco fatto chiudiamo quindi girate e cominciate a fissare molto semplicemente fissate i fori esattamente come avete fatto fino ad oggi per tutto il resto mi raccomando come sempre non tirate a morte arrivate fino in fondo e fate in modo diciamo che la vite aderisca bene tutto lì ecco qua ultimo fatto ecco ora facciamo una simulazione per la mia personale curiosità di come potrebbe venire poi lo chalet ok eccolo qui molto carino davvero molto carino quindi sarà bello vederlo anche questo illuminato sicuramente è completo di tutti tutti diciamo gli accessori o comunque tutte le caratteristiche di questo sole bene anche per oggi è andata è finita e abbiamo montato tutto quello che si poteva montare il resto lo abbiamo conservato per le prossime puntate io vi ringrazio come al solito di avermi seguito tantissimo vi ringrazio e se avete voglia commentate mettete like e io sono sempre a vostra disposizione grazie a tutti da Cesco ciao grazie a tutti